Cagnolini di Gianna, figli ammendi, posteggiati, uno nel mio papà, uno in campagna, e la usano qualcuno, poi lo buttavano sull'arrivo. Ciao, Giusy! E' te stavo per salutare! Realmente l'abbiamo fatto sto dog park! Ciao! Finalmente il parco! Ciao Giusy! Ciao! E' questo cagnolino! Ma sono, lei è femmina e lei è femmina! Vabbè un attimo di rivalità! Con le altre femmine sono... E' vero che si chiedono anche a abituare, ci vuole anche un po' di pigno fermo in un altro... C'è il suo! C'è il suo!